Ma buongiorno a tutti dalla campagna, benvenuti in questo nuovo giorno, benvenuti in questo nuovo video, video, suota la spesa, Eurospin, ovviamente direi. Allora eccoci qua, vi faccio vedere subito i surgelati così li vado a mettere un attimo in freezer e poi vado avanti col video. Ho preso due confezioni di patate paletta, ho preso l'affogato alla spagnola, peraltro sono in offerta ai gelati quindi ottimo, sei coni con panna e il tronchetto alla vaniglia. Vado un attimo a metterli in freezer, eccomi qua. Allora ho preso un dentifricio, questo qui white and fresh, un dentifricio per Giulia che l'ha finito, delle principesse, ho preso un ammorbidente concentrato, incontri avvolgenti, gardegna nera e olio di argan, è buono il profumo, vediamo poi come rimane sui vestiti. Un pacco di grissini torinesi, un pacco di sfoglie croccanti e un sacchetto di crackers salati in superficie. Poi abbiamo preso quattro buste di questo pane, quadrotta biologica, sono quattro buste, poi ho preso due bustine di mele e banana e due bustine di mele e frutti rossi che ai bambini piacciono molto, li li metto in frigo, li bevono diciamo freschi. Poi ho preso un pacco di crostatine, nocciole cacao, non crema le nocciole cacao, crostatine con confettura di albicocca, plum cake e il trancino. E come biscotti abbiamo preso questi frollini con farina integrale di grano saraceno, vediamo poi se piacciono ai bambini, ho dei dubbi, meno male ci sono ancora dei biscotti in casa, al limite mangiano gli altri. Poi abbiamo preso due confezioni di cola da quattro lattine, una confezione di tè da infuso al limone e uno alla pesca. Ho preso questo preparato giuccherato istantaneo al limone, che lo faccio, lo metto nelle bottiglie, lo metto nel frigo, è buono, discreto. Questo formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, i burger vegetariani per Sergio, i succhi, 6 succhi alla pesca e 6 succhi all'ace, le olive verdi, denocciolate, i cetrioli in aceto, che Giulia ne va matta, una busta di mozzarella, uno stracchino cremoso, la roviola, formaggio dolce a pasta filata, poi abbiamo preso i tomini classici, poi abbiamo preso questa scamorza affumicata, gli spiedini di tomini da buttare poi sul barbecue e questi grissini di latte affumicato che sinceramente non avevamo mai preso. Ho preso poi il doppio concentrato di pomodoro, un ketchup e due confezioni di passata di pomodoro della delizia del sole. Ho preso le patate novelle, due chili, ho preso le taggiasche, due scatolette di tonno, due di piselli, poi ho preso i pomodorini, i pomodori a grappolo, le pesche a polpa gialla, una melanzana per Sergio ovviamente direi, l'uva bianca da tavola senza semi, un broccolo e le banane. Scusate, tra l'altro le banane sono in offerta 0,99 centesimi. Poi ho preso un pacco di penne rigate, un pacco di tortiglioni, poi abbiamo preso spaghetti, vermicelli e due di bavette. E ho preso un pacco di riso, questo qui da due chili, riso lungo B, che a me piace un sacco. Poi ho preso una bottiglia di latte, che di solito non compro all'Eurospin, ma ero lì e facevo prima oggi. Due confezioni di viustel piccoli, questi qua di suino, che sono senza glutine, sì. Poi ho preso il macinato per ragù, il petto di pollo intero, perché a fette non ne avevano più, e la coppa a fette senza osso. Ok? Questa è la spesa pre stipendio, diciamo così, che abbiamo fatto oggi. E ora vi faccio vedere lo scontrino. Perdonate se lo scontrino è un po'... Alcuni numeri non si vedono. Ma oggi ce l'hanno fatto così. Abbiamo speso 123 euro e 20 centesimi. E questa è la spesa che abbiamo fatto. Ecco a voi la spesa pre stipendio. Nulla ragazzi, io direi che anche per oggi il nostro video spesa termina qui. Io vi ringrazio se l'avete guardato, vi saluto e vi dico che noi ci riaggiorniamo presto con un nuovo video. Anzi, domani pomeriggio con la live. Grazie a tutti. Ciao ciao dalla campagna. Presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.